C'è un'esplor, c'è questo che faccio qui, mi sto provociando. Allora, sicuramente, mi ha preso qui qua sotto, non è qui, il centro storico, va da sotto, mi ha già come va bene, mi ha già fatto col dorale. Allora, mi scendono, mi sono certi pesi, pesi, caratteristici da visitare. Adesso passiamo, faccio solo il centro perché qua bisogna ottenere le prese, ci vuole molto tempo. Ecco, qui finalmente, finalmente vendita, tutti i casi in vendita. Allora, questo lasciate che conduce verso la mappa, cosa non dica, però sono ben mantenuta. Beh, ogni paese. Questa va comune, non è qua, c'è un'esplor. Qui c'è lo stroppo. Vabbè, qua. Faccio il porto a piedi. E quindi preserva. Qua c'è lo stroppo, c'è. Per i bigneri con l'altro sabbino. Questa è un'esplor. Questa è un'esplor. Questa è un'esplor. Allora. Questa è un'esplor. 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 Grazie a tutti.